Sono Silvia Ferrante e sono stata citata in giudizio civile per 16 milioni di euro da Tarna S.P.A. perché ho testimoniato insieme ai proprietari che si sono imposti agli esclavi e contestato l'opera di Tarna in Abruzzo. A Napoli siamo tutti Silvia perché qua abbiamo dimostrato oggi che noi difendiamo i territori di tutto il paese non solo di Napoli in questo caso, di Silvia Ferrante dall'Abruzzo e quindi solidarietà assoluta non mai lasciare soli chi lotta perché l'isolamento è pericoloso e invece insieme si può non solo resistere, combattere ma anche vincere.